Buonasera a tutti. Qual è la principale causa dell'inquinamento globale? Spesso ci concentriamo sulla deforestazione o sull'inquinamento prodotto dai veicoli che utilizziamo per spostarci, ma la principale causa è l'enorme quantità di energia che utilizziamo per riscaldare e raffrescare le nostre case e i nostri uffici. Molta di questa energia viene sprecata perché tendiamo a impostare manualmente la temperatura o ad affidarci a dispositivi che si limitano a reagire alle variazioni termiche. La mia soluzione si chiama Kelvin ed è uno smart device che, utilizzando i dati meteorologici, le abitudini degli utenti e applicando algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning, interviene sull'impianto di riscaldamento e raffrescamento solo quando è strettamente necessario. Oggi esistono in commercio dei dispositivi che tentano di andare in questa direzione, ma oltre a essere molto costosi, sono legati a un modo vecchio di ragionare. Sono dispositivi che reagiscono a quello che osservano e hanno bisogno di un costante intervento umano, specialmente nella prima fase. NEST invece è un dispositivo proattivo che tramite una semplice connessione internet è in grado di essere efficace fin dal primo momento senza richiedere una costante presenza umana. Api e farfalle stanno scomparendo e si stanno sciogliendo. Il cambiamento climatico non aspetta noi. Non possiamo aspettare 5-10 anni che vengano realizzate molte delle soluzioni ambiziose di cui si parla oggi. Dobbiamo agire subito. NEST farebbe esattamente questo. Potrebbe portare un beneficio enorme riducendo il fabbisogno energetico dei propri utenti oggi. Inoltre, essendo comunque un dispositivo che impara con il tempo, nell'arco di qualche anno potrebbe ribaltare questi benefici su tutta la filiera, dagli utenti finali fino ai produttori di energia. Benefici che sarebbero particolarmente utili per quelle aree del mondo in cui è difficile portare l'energia e per le popolazioni dei paesi poveri e in via di sviluppo per i quali risparmiare qualche euro può far la differenza e per i quali sarebbe impensabile acquistare uno dei dispositivi attualmente in commercio dato l'alto costo. Io credo che Kelvin potrebbe davvero far la differenza, ma per farlo non basta avere una buona idea, servono le competenze utili per implementarla. Per questo penso di essere la persona giusta. Io mi chiamo Alessandro Pagliero e sono nato a Torino dove ho studiato ingegneria gestionale. Ho poi fatto un internship in Prada, ho lavorato per una start-up e adesso lavoro per una società di consulenza strategica. Io credo che per innovare e avere un impatto significativo sul mondo che ci circonda sia molto importante saperlo osservare da punti di vista diversi. Per questo motivo ho cercato di conciliare il tecnico con il bello, la creatività e il dinamismo di una start-up con la struttura e la capacità di execution di una società di consulenza. Ed è per questo che spero di partecipare al Global Solutions Program, perché mi metterebbe nelle condizioni di innovare e di avere un impatto significativo sul mondo. Infine, per sfruttare al massimo il potenziale di NEST e di Kelvin, è molto importante padroneggiare molto bene le tecnologie esponenziali su cui si basa. Inoltre è altrettanto importante essere immersi in un contesto che favorisca la creatività e la voglia di mettersi in gioco. Spero quindi che mi darete questa opportunità e vi ringrazio molto per l'attenzione.